C'è un problema che riguarda Salerno, dobbiamo ritornare nei quartieri, l'amministrazione credo stia preparando un programma anche di interventi piccoli ma significativi, marciapiedi, pubblica illuminazione, riqualificazione delle strade, abbiamo una criticità che è la maledetta pulizia. La regione ha approvato norme e dato risorse per stabilizzare a Salerno Pulita quasi 330 dipendenti. Il personale c'è, è una questione di organizzazione. Salerno deve tornare ad essere una città giardino e non è così in tanti quartieri, quindi bisogna prendere in mano con decisione il problema della pulizia, dell'igiene pubblica, perché in alcuni quartieri la situazione è eccellente, in altre realtà no, abbiamo spazzini che non passano in qualche caso da un mese o da due mesi. Allora questa è la criticità che dobbiamo affrontare e risolvere insieme con begli interventi nei quartieri che si stanno facendo.